Ha deciso di costituirsi, presentandosi spontaneamente alla casa circondariale Malaspina di Caltanissetta, il sancataldese Michele Amico, 39 anni, nei cui confronti era stata emessa un'ordinanza di custodia cautelare in carcere perché accusato di avere rapinato e causato lesioni a un amico per rubargli 980 euro. Amico non era stato catturato subito dai carabinieri, in quanto era risultato irreperibile, tanto che in manette era finito soltanto il secondo indagato, il sancataldese Gioveanni Piazza, 52 anni, nei cui confronti il GIP ha disposto gli arresti domigiliari. Secondo la ricostruzione accusatoria, i due indagati e il loro amico si erano prima fermati a bere qualcosa in un bar di San Cataldo e poi erano saliti in auto per dirigersi a Canicattì. Nel corso del tragitto, Amico, alla guida della vettura, aveva arrestato la marcia mentre percorrevano la statale 640 Caltanissetta Grigento, all'altezza della zona di Favarella, dove sorgeva il bullying Italia e quindi, sempre secondo la tesi investigativa, aveva preso dal cofono una mazza e poi sia lui che Piazza avevano iniziato a colpire il passeggero, sferrandogli anche dei pugni. A quel punto, sempre secondo l'accusa, Piazza aveva sfilato il portafoglio alla persona offesa, prendendo i 980 euro costuditi all'interno. La somma era stata ritirata come pensione di accompagnamento per il figlio disabile della persona offesa. I colpi ricevuti hanno causato alla vittima trauma e contusioni alla testa e anche agli arti. Poi i rapinatori avevano anche riaccompagnato l'uomo a San Cataldo, nella zona dove aveva lasciato la propria auto e questi si era subito recato alla caserma dei Carabinieri per presentare denuncia.